Nonostante la strenua difesa dell'Avvocatura dello Stato, in dato odierna l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato conferma le decisioni della sesta sezione dello stesso Consiglio di Stato nel mettere in via cautelare nelle grattorie ed eseguimento i diplomati magistrali e a riconoscere quindi valore abilitante a coloro che hanno conseguito il titolo entro l'anno scolastico 2001-2002. L'Avvocatura ha esordito eccependo il difetto di giurisdizione della questione, tendando di far rinviare o comunque di prendere ulteriore tempo come se non bastasse quello già preso dalla stessa Avvocatura nei tanti giudizi e rappresentando che avrebbe sollevato anche sulla questione moderna il costo per Cassazione. Nonostante le eccezioni di merito relative al fatto che i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare nel 2007 le suddette gradutori, nonostante le eccezioni relativi all'affermazione che questo fosse un atto plurium, quindi non valevole erga omnes, l'adunanza plenaria in buona sostanza con un provvedimento, ricordiamo che sempre un provvedimento cautelare, comunque non si discosta dal proprio orientamento. A questo punto devono partire i giudizi di primo grado, anzi di partire, bisogna fare istanze di prelievo presso il Tar del Lazio affinché si solleciti e si dia velocità ai ricorsi che sono tuttora pendenti per poter far sì che la giustizia amministrativa faccia il soccorso e che quindi l'inserimento nelle GAE anche di coloro che sono in attesa sia del giudizio di merito di primo grado sia del giudizio di merito in sede di appello, possono trovare una equa ristorazione del danno e un conseguenziale inserimento nelle GAE ad esaurimento a pieno titolo con necessaria immissione in ruolo degli aventi diritto.